Lunedì 22 gennaio Lunedì 22 gennaio Un bimbo distrutto un appartamento providenziale, l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato problemi, non ci sono stati fortunatamente feriti o intossicati. Vedete a centro pagina la fotonotizia, la Polizia Municipale rimuove le bici abbandonate, operazione antidegrado nell'area centrale della città. E poi Pescara ancora pista ciclabile in Viale Muzzi, lavori e proteste. Poi vedete Montesilvano, nuova palestra, pronto il progetto di professori e studenti. In basso si parla di calcio del Pescara che ha iniziato il 2018 con una importantissima vittoria ottenuta sabato pomeriggio allo Zaccheria di Foggia. Pescara che continua a monitorare il mercato, ha la ricerca anche di un portiere da affiancare a Fiorillo e Savelloni. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia di un interessamento e di contatti della società bianca azzurra con il 34enne portiere del Perugia, Antonio Rosati. Poi si lavora ancora per il passaggio e la cessione di Francesco Zampano all'Udinese. Vediamo in alto anche altre notizie. Movimento 5 Stelle, svelati i candidati abruzzesi, Camera e Senato, tre confermati. Ma del grosso è fuori e poi ci sono altri nomi per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Si è chiusa a Pescara la tre giorni, organizzata all'Aurum con la presenza dei più importanti esponenti nazionali del Movimento 5 Stelle. Vedete il titolo di Maio, chiude il villaggio con gli applausi e venti e promesse all'Aurum di Pescara. Il premier Gentiloni a Musoduro, i grillini non passeranno. E poi Rigopiano, Mattarella riceve oggi i familiari delle vittime. Ne avevamo parlato anche il 18 gennaio scorso, nel giorno del primo anniversario della tragedia, quando vi avevamo appunto dato la notizia che nella giornata di oggi ci sarebbe stato l'incontro dei familiari delle vittime con il Presidente della Repubblica. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro edizione di L'Aquila, Vezzano e Sulmona. Cantieri, c'è la polizza antifurbetti, L'Aquila, controlli del comune sulle aziende per tutelare i subappaltatori. Poi vedete la foto a centro pagina, la tragedia di Pescasseroli. Il padre, mia figlia, mi è scivolata, levo levo bene questa piccola bambina morta a Pescasseroli. E poi, nelle cronache, l'Aquila-Santagnese, riecco la carica degli eletti, Capistrello, Santa Barbara, gli alunni tornano a scuola. Il calcio di Serie D perché l'Aquila si prende il derby, colpo del Rosso Blu in casa dei Nero Stellati. A Vezzano solo un pareggio a Castel di Lama per la formazione di Giampaolo contro il Monticelli. Vediamo anche la prima pagina del centro di Teramo, truffa del sisma, altri dieci indagati. Vedete il titolo di apertura, l'inchiesta sui furbetti da Teramo si allarga a Montorio, al Vomano e Isola del Gran Sasso. Il Vescovo Leuzzi a Montorio, la prima visita dopo l'insediamento ufficiale dell'altro giorno, basta con la sfiducia, detto il Vescovo di Teramo Atri. Notaresco, fese all'arma su Facebook, giovane assolto e poi verso le politiche il PD Teramano chiede un deputato sicuro. E poi il calcio di Serie C dopo la sconfitta con il Vicenza, polemiche in casa Teramo. Campitelli, patron della società Biancorossa, dice Asta è nel pallone, il patron attacca il tecnico e dice sto riflettendo. E dunque potrebbero esserci anche clamorosi colpi di scena nelle prossime ore dopo la sconfitta della formazione Biancorossa in casa con il Vicenza. Vicenza che è un passo dal baratro, ha però con la sua squadra dato prova di grande generosità e di grande attaccamento ai colori sociali, nonostante settimane e settimane di problemi per la formazione Biancorossa allenata da Zanini. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Chieti Lanciano Vasto. L'itea scuola, preside condannata, Chieti manda in ospedale una collaboratrice, adesso dovrà risarcirla. La Onuel di Atessa, braccio di ferro sugli incentivi, la FIOMMA almeno 80 mila euro agli operai che vanno via. E Vasto, ciao Savastano, scatta la denuncia per intimidazione. Lanciano, lavori alla fiera, grandi eventi al padiglione 2, il calcio di serie D, questa volta si parla delle squadre di Chieti e della provincia, in particolare della Vastese nel segno di fiore, doppietta del capitano Biancorosso e vittoria nel derby casalingo con il Pineto. E nel campionato di eccellenza, il Chieti approfitta del mezzo passo falso della capolista Giulianova e si porta a tre punti dal primo posto. Vediamo anche un richiamo sulla Serie A, giornata di ieri, scatto Napoli, stasera giocherà la Juventus, Lazio terza in classifica con l'Inter che nel finale ha evitato la sconfitta in casa con la Roma. La prima pagina del messaggero inserto Abruzzo mi è sfuggita dalle braccia, vedete il titolo di apertura sulla tragedia di Pescassero, la morte della bambina causata non da una malattia ma da una caduta, il padre distrutto, ho detto una bugia perché non sapevo come spiegarlo a mia moglie. E vedete poi l'incontro, Rigopiano, le famiglie oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella. E poi Pescara, la notizia che abbiamo ritrovato anche sul centro, Palazzo in fiamme, inquilini salvi grazie all'autogru, Pescara a rogo provocato da un cortocircuito, momenti di panico, diversi residenti intossicati. E poi elezioni Aurum Stracolmo per Di Maio, posti esauriti, diffusa la lista dei candidati. Poi vedete la notizia in taglio di spalla, svaliggiano la prologo per arredare la loro casa, il colpo al tagliacozzo, l'arma dei carabinieri li trova la rifurtiva e denuncia uno dei presunti ladri. In alto, come sempre ogni lunedì si parla di sport, Pescara mancuso il bomber pescatore della formazione adriatica, il suo gol ha permesso il Biancazzurri di violare il Pino Zaccheria di Foggia, rugby via Cava trascina l'Aquila, successo in pool promozione sul Benevento, importante vittoria dei neroverdi aquilani. In Serie D vastese l'Aquila si aggiudicano i derby, sabato c'era stato l'anticipo, un altro derby con il pareggio tra San Nicolò e Francavilla. Abbiamo esaurito le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, possiamo andare a vedere come sempre l'edicola nazionale con le prime pagine dei quotidiani, degli altri quotidiani che troverete oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, sia l'euro e meno tasse il piano dei 5 stelle, gentiloni ma non avranno i numeri, 5 stelle che si sono riuniti nella tre giorni abruzzese, in particolare all'Aurum di Pescara. E vedete la risposta dell'attuale Premier, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che dice non avranno i numeri. E poi la SPD divisa salva Merkel, siamo in Germania, via libera all'alleanza dal 56% dei socialdemocratici, sollievo dell'Europa ma ci sono divisioni proprio nel partito socialdemocratico. e poi vedete il fisco spagnolo insegue Shakira, è stata a Barcellona oltre 183 giorni, paghi qui. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica, l'ESPD sia il governo Merkel, torna la grande coalizione con l'appoggio del 56,4% dei voti. Ma il partito di Schulz è diviso e poi vedete a centro pagina la foto che riguarda gli Stati Uniti, la statua della libertà, il giorno in cui si è spenta la fiaccola della statua della libertà. E poi in basso verso il voto Gentiloni sfida, i 5 Stelle non avranno i numeri, Di Maio retromarcia sull'euro. Noi andiamo avanti perché da Repubblica passiamo alla stampa di Torino, Movimento 5 Stelle PD sfida su imprese e famiglia, Di Maio con noi via Lira per un piano di assunzioni, Renzi più sgravi, a chi ha figli. E poi vedete a centro pagina i tank di Erdogan in Siria, battaglia con i kurdi. C'è questo articolo, questo reportage della stampa su quello che sta avvenendo in Siria. Siamo al sole 24 ore, la rivoluzione digitale investe tasse e diritto, le innovazioni nel web senza frontiere creano situazioni sempre più inedite. In alto si parla del lavoro per i giovani, tirocinio in ritardo, metà regioni, indennità fra 300 e 800 euro al mese. Poi vedete un altro titolo, Brexit esplora la via del Canada. Da marzo le nuove trattative per le future relazioni commerciali tra l'Unione Europea e il Regno Unito, per l'export dell'Italia un danno inferiore ai 400 milioni di euro. Siamo al fatto quotidiano, Di Maio getta l'amo ai partiti, programma di 20 punti, candidati e apertura a intese. Post voto, poi vedete in basso si parla di Fiat, tutto bene ma solo a casa di Marchionne, utili e lavoro negli Stati Uniti, in Italia. La crisi, andiamo avanti con il messaggero, la prima pagina nazionale del messaggero, caso banche, così le regole anticrisi, la relazione finale della commissione d'inchiesta ormai pronta, intesa tra PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega, Superprocura per i reati finanziari, norme a tutela dei risparmiatori, azione preventiva della Consob. Poi vedete, Di Maio, ecco il programma Chi ci sta? Domanda il premier designato dal Movimento 5 Stelle, se ne è parlato ieri a Pescara, presentate le liste grilline, sfida alleanze e dall'Italia andiamo in Germania perché i socialisti salvano la Merkel ma il partito di Schulz si spacca e vedete poi un richiamo di Sport che riguarda la Roma, in questo caso sul quotidiano romano, la Roma spreca con l'Inter, 1-1 il finale, la Lazio avvalanga sul Chievo 5-1, il risultato per i bianco celesti, siamo al tempo, ecco il sondaggio che non decide, sondaggio del tempo per scegliere il candidato del centrodestra alle regionali, siamo a Libero, gli immigrati delinquono dieci volte più degli italiani, gli africani sono i più pericolosi, gli stranieri, scrive Libero, hanno il record di stupri, furti e rapine, i peggiori arrivano dal continente nero, se la sinistra crolla nei sondaggi è perché anziché denunciarli continua a definirli. Una risorsa, andiamo al secolo XIX, il quotidiano di Genova, Movimento 5 Stelle, PD, guerra sul fisco, Di Maio via l'Irap sulle piccole imprese, i democratici ribattono 10 miliardi di sgravi sui figli, 5 Stelle nelle liste Liguri, conferme per Mantero, Battelli e Valente, ovviamente il quotidiano genovese punta sulla politica locale e punta anche sulle squadre di Genova, Quaglia si fa in tre, la Samp riparte, vittoria dei blu cerchiati per 3 a 1 con la Fiorentina e vittoria importante per la formazione allenata da Marco Giampaolo. Questa sera l'altra squadra genovese, il Genoa, affronterà a Torino la Juventus. Siamo al mattino di Napoli, Mara Martens, il Napoli non si ferma, la sua prodezza accende gli azzurri, Napoli che passa 1 a 0 a Bergamo, vedete la foto dei giocatori del Napoli negli spogliatoi dopo la vittoria con i nerazzurri Lombardi. E poi la politica, Di Maio Gentiloni, la sfida nuova, il leader del Movimento 5 Stelle, pronti a governare, il Premier risponde, non avrete i numeri. E poi l'analisi, grande coalizione, la Germania dà prova di maturità e poi si parla di lotta ai pedofili, la giusta prudenza di Papa Francesco. Andiamo avanti, ma questo era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso oggi in esame, possiamo tornare ai quotidiani di casa nostra, lo facciamo ripartendo dal centro per andare a vedere quali sono le notizie di carattere regionale. Si parte ovviamente dalla Kermess che si è conclusa ieri a Pescara, dei 5 Stelle, verso il voto del 4 marzo svelati 12 candidati, sono sorprese a 5 Stelle, vedete il titolo, Camera e Senato fuori del grosso, confermati Vacca, Colletti e Castaldi, ma il voto con i clic premia due donne di Bucchianico, ingegneri e architetti. Dunque conferme per gran parte dei parlamentari uscenti del Movimento 5 Stelle. E poi in basso invece si parla della solidarietà con i venezionali anafame, manifestazione all'aurum dell'Associazione Veneuropa, Di Maio riveda le sue posizioni su Maduro. E poi ancora 5 Stelle, il programma in 20 punti, lo vedete sul palco di Pescara, sale De Falco, l'antischettino, ricorderete il capitano della Marina Militare De Falco, il candidato premier Di Maio sceglie il villaggio Rousseau di Pescara per il dopogrillo, si e l'Europa, meno tasse e leggi, tagli agli sprechi, i cavalli di battaglia. Andiamo avanti e siamo alla cronaca di Pescara, ripartiamo dalla notizia dell'incendio di ieri pomeriggio in Via Tavo, palazzo a fuoco evacuate, 20 persone, fiamme in un alloggio del ferro di cavallo, bimbo di 3 anni salvato dai vigili, alcune famiglie ospitate in hotel, vedete le foto dell'intervento dei soccorsi, dei vigili del fuoco. Andiamo avanti, flop dei musei comunali, conti sono tutti in rosso, l'amministrazione svela gli incassi e le spese dei servizi offerti ai cittadini, fanno bene solo i mercati, male gli asili, perdite, record per mostre e gallerie, dunque poco visitati i musei di Pescara. E poi il comune affida il parco Duse ai volontari della Vides, gestione dell'area verde di via Palma ai volontari della Vides, vedete nella foto il vice sindaco di Pescara Blasioli, la presidente della Onlus Zuccarini al parco Duse. Proseguiamo, ciclabile in via Muzzi, oggi partono i lavori, siamo sempre a Pescara, è terminata la tregua concessa dall'amministrazione comunale ai commercianti, il cantiere rischia di aprire tra le proteste degli esercenti contrari all'opera. E a Pescara al via le potature degli alberi, ecco le strade interessate, il comune rende noto il programma delle potature che partiranno nelle prossime ore. Rimosse 15 bici abbandonate, gli interventi sabato scorso nell'area centrale, blitz dei vigili urbani per togliere di mezzo i mezzi non più utilizzabili. E poi la cronaca, colpo in via Tiburtina, rapina al supermarket Conad, uomo fugge con 1700 euro. E poi in basso, folla per visitare la Goletta Museo, l'imbarcazione ospite del Marina di Pescara, successo della mostra navigante, tante le famiglie con i bambini. E poi lo scontro politico all'interno del PD, scontro sulla scelta di D'Alessandro. Vedete, tocco e cordisco, dicono basta, polemiche, sui candidati. Siamo a Montesilvano, insegnanti, genitori ed ex alunni firmano il progetto della palestra presentato di orie a Montesilvano, l'elaborato per realizzare una struttura al servizio del liceo d'Ascanio. Si potranno praticare diversi sport, previste anche tribune richiudibili per ospitare mille spettatori. E da Montesilvano ci spostiamo a Francavilla dove restano invariate le tariffe per l'assistenza. Vedete nella foto il primo cittadino di Francavilla, Antonio Luciani, in basso in tanti alla festa della Coldiretti, a Pianella la tradizionale sfilata dei trattori e la benedizione degli animali. E poi appenne l'iniziativa del sindaco Mario Semproni, l'ospedale non va declassato, iniziativa dell'amministrazione comunale a difesa del locale Nossocomio. Siamo a Chieti, sentenza del giudice di pace, lite con l'impiegata, preside condannata la dirigente d'Angelo, manda in ospedale una collaboratrice della scuola, dovrà pagare, come leggiamo qui dal quotidiano Il Centro, 3.600 euro per lesioni personali. Andiamo in basso, ciao da Savastano, denunciato per minacce, vasto pensionato accusato di intimidazione per il biglietto fatto consegnare a un commerciante. In basso ad Atessa, almeno 80.000 euro a chi va via, incentivi all'esodo in Honeywell, FIOM pronta ad occupare la fabbrica a vasto, cementificio nella riserva, il WWF valuta il ricorso al Tar. Siamo all'Aquila, volevo bene a Gaia, in questo caso a Pescaseroli per la precisione, è stato un incidente, parla il padre della neonata morta, la sua ricostruzione mi è scivolata mentre le davo il latte, poi ho mentito per paura della reazione della mia compagna, questa tragedia accaduta a Pescaseroli, queste le parole drammatiche del padre della neonata morta. E la procura blocca i funerali della piccola, oggi la trasmissione degli atti alla magistratura di Sulmona si ipotizza l'omicidio colposo contro ignoti. In basso a Tagliacozzo, furto alla Proloco, 59enne nei guai, i carabinieri ritrovano tutta la refurtiva nella sua abitazione. Poi a Carsoli, segnali stradali divelti dai vandali, il raid compiuto l'altra notte, i teppisti forse ripresi dalle telecamere accaduto sulla circonvallazione turanense a Carsoli. Siamo alla pagina dell'Aquila, si parla di cantieri post terremoto, lavori della ricostruzione una polizza per le imprese, il sindaco Biondi corre ripari contro le ditte morose con fornitori e subappaltatori, troppe irregolarità e dichiarazioni mendaci, scatteranno i controlli. E poi tasse comunali, vedete, di spalla, palumbo del PD, ok, la riduzione dei lattari, la chiesi mesi fa. Poi andiamo a vedere altri titoli, ecco come funziona lo stato di avanzamento dei lavori, SAL, si parla sempre di post terremoto della ricostruzione. E poi call center, scontro tra Cretarola e Biondi, lavorabile, si attende la commessa Inps, il sindacalista, dice comune assente, la replica, impegno costante. Siamo alla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, truffa lo stato con i contributi, vedete il titolo di apertura di questa pagina dedicata alla cronaca di Teramo, furbetti del sisma, altri dieci indagati, si allarga l'inchiesta, oltre al capoluogo anche Montorio e Isola del Gran Sasso. E poi candidature, documento unitario del PD, non scordate, Teramo nella foto, vedete il deputato del PD, Tommaso Ginobile. E poi, vilipendio all'arma su Facebook, assolto, giovane di notaresco, aveva avuto un decreto penale di condanna, a cui ha fatto opposizione. Siamo arrivati alle pagine dello sport, possiamo allora passare al messaggero, l'inserto Abruzzo, ripartiamo da Pescara, si parla ovviamente della tre giorni dei grillini a Pescara, il giorno di Di Maio, applausi e cori nell'Aurum Stracolmo, vedete nella foto quanta gente all'Aurum e vedete anche il titolo, posti in piedi dal primo pomeriggio, un centinaio di militanti a sera alla pubblicazione dei candidati. Ecco i quattro abruzzesi, ne abbiamo parlato anche prima. E poi la cronaca, appartamento distrutto dalle fiamme, panico a Rancitelli, inquilini intossicati, vedete quello che è accaduto in Via Tavo nel primo pomeriggio di ieri, in basso a Rigopiano, le famiglie, dal Presidente della Repubblica, le famiglie delle vittime, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordiamo il 18 gennaio scorso, il primo anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano. Siamo alla pagina dell'Aquila, sempre dall'inserto Abruzzo del Messaggero, scuola di Amicis, via i lavori, la scommessa dei tempi celeri, sarà il primo istituto a riaprire in centro, il cortile coperto diventerà spazio culturale, risolto il lungo contenzioso con la prima ditta in graduatoria, alla quale subentra la 6. E poi Di Maio, la visita a Lampo che delude gli aquilani, vedete Di Maio per le vie dell'Aquila, in basso, droga, furti, strade rodeo, giro di vite sulle periferie, operazione dei carabinieri. E poi bonifiche a tappeto e lotta all'amianto, abbandonato all'Aquila. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, bimba morta, il padre dice prendevo il latte e mi è caduta dalle braccia, questo è il titolo di apertura di pagina 30. E poi Avezzano, addio soldi per la cittadella sportiva Cipollone, realizziamo singoli progetti. E poi Sulmona, cantiere come parco giochi, sicurezza dei bimbi a rischio, tra rifiuti e materiale edile potrebbero nascondersi anche frammenti di amianto. Avezzano, mancano pedane, la stazione ferroviaria vietata ai disabili. E poi Chieti, villa, danni e scritte sui muri, i vandali sfidano le telecamere, vedete alcune immagini della zona della villa comunale di Chieti, sfregio all'insegna che ricorda Berge, il carabiniere che lottò contro i briganti, imbrattata una parete esterna del Galliani, anche Palazzo De Maio torna nel Mirino. Poi basto, siamo sempre alla pagina di Chieti e Chieti provincia, cementificio della discordia, domani il tavolo ambientale, a preoccupare sono le eventuali polveri e il grande traffico di camion e tir. Restiamo alla pagina di Chieti e Chieti provincia, in questo caso andiamo ad Ortono, ospedale politica indifferente, abbandona il comitato a difesa del nosocomio ortonese, a fondo pagina siamo alla cronaca di Lanciano, lavoro in centro, la rabbia dei commercianti, questo è il titolo che riguarda la città frentana. Lasciamo la pagina che riguarda Chieti e la provincia sul messaggero, siamo a Teramo, si parla dell'insediamento del nuovo vescovo Monsignor Leuzzi, il vescovo lancia un messaggio di speranza ai terremotati in visita il prelato a Montorio tra gli abitanti colpiti dal sisma, i bambini del catechismo, protagonisti del simpatico incontro con il nuovo vescovo della diocesi di Teramoatri. Val Vibrata, area di crisi, possibili 245 nuove assunzioni. E poi Roseto, sottopasso ancora inagibile, proteste a Giulianova, tentano il furto da Di Gennaro messi in fuga dai carabinieri. E poi ancora Giulianova, si apre il pavimento e sprofonda nella tomba. Macabra avventura nel cimitero vecchio durante una visita. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport, ma prima di parlare di sport possiamo andare a vedere una notizia interessante che arriva dal Corriere della Sera. Alessia, la Miss, vedete il titolo in alto con il marsupio, smettetela di insultarmi sul web. Al concorso questa ragazza di Montesilvano si è presentata con la bimba di sei mesi nel marsupio. Vedete la foto. Quando sono rimasta incinta ho perso il lavoro. Questo è l'articolo sulla pagina nazionale del Corriere della Sera, curato dal nostro collega Nicola Catenaro che segue proprio per la nostra regione le vicende di cronaca per il Corriere della Sera. Vedete questa foto di questa ragazza che si è presentata al concorso alle selezioni per Miss Italia inseparabili. Vedete questo risvolto sempre nell'articolo di Nicola Catenaro sul Corriere della Sera. La porto sempre con me. La maternità non impedisce di voler realizzare un sogno. Vedete questo l'articolo. Alessia Spagnolo, 24 anni, arrivata alla selezione di Miss Italia con la figlia di sei mesi. Questo è l'articolo sulla pagina del Corriere della Sera di Nicola Catenaro. Allora possiamo fermarci qui per quanto riguarda la prima parte di mattino sei. Ora andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore e poi torneremo come sempre in studio per la seconda parte che sarà interamente dedicata alla pagina sportiva. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino sei. Apriamo la pagina sportiva. Lo facciamo andando a vedere le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali che troverete oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Buon vento Miran a Caglia di seconda vittoria di Fira. De Rossoneri 2 a 1 contro i Sardi e settimo posto in classifica. Super Cassi nel maestrale. Europa in vista in alto. Il Napoli gode. Vittoria per 1 a 0 con un gol di Martens a Bergamo. E all'Inter invece rode. Santon flop. Elison Shaw. Vecino prende la Roma ma Spalletti non vince più. E per l'Inter si allontana ovviamente ulteriormente anche il secondo posto con la Lazio che ha raggiunto in classifica la formazione nerazzurra. E poi vedete in alto anche che Lazio immobile KO ci pensa Milinkovic. Il Corriere dello Sport. Turbo Napoli. Favolosa vittoria a Bergamo. Decide Super Mertens 1 a 0. Tra Inter e Roma stravince la Lazio. Pareggiano Nerazzurri e Giallorossi. Vincono i Biancocelesti che raggiungono in classifica come abbiamo visto l'Inter. E poi Doppio Chessi. Gattuso decolla. E poi l'impresa. Effetto Zenga. Il Crotone vola. Splendido 3 a 0. Dei Calabresi al Bentegodi. in campo per la formazione crotonese. Anche l'ex pescarese Benali. Tra l'altro giocatore di proprietà del Pescara in prestito alla società pitagorica. Siamo a tutto sport. Juve non ti resta che vincere. Queste le parole di Allegri. In alto Vesino da una mano a Spalletti pari all'86esimo con la Roma. Andiamo a vedere dunque le pagine di sport locali. Ripartiamo dal centro. Le tensioni fanno volare il Pescara. Dieci punti nelle ultime quattro partite. Dopo il botta e risposta tra Zeman e Sebastiani. Pescara che ha vinto sabato scorso a Foggia. Prima della sosta i Biancazzurri avevano ottenuto due vittorie ed un pareggio battendo Venezia e Novara allo Stadio Adriatico e andando a pareggiare per 1-1 ad Ascoli. E poi vediamo un richiamo sul Teramo. La Serie C Campitelli furioso. Asta è andato nel pallone ha detto il patron. Andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano del centro. Vediamo anche quello che è successo in Serie A. Inter Roma 1-1. Non gioisce nessuno per questo pareggio ma ovviamente l'Inter è riuscita a raddrizzare la gara negli ultimi minuti e dunque può considerarsi forse più contenta la formazione nerazzurra per aver quantomeno evitato il KO. E se una squadra di Milano non gioisce fa festa all'altra squadra di Milano. Il Milan che soffre ma ribalta il Cagliari con Chessy. Doppietta per il giocatore per il centrocampionista rosso-nero con il Milan che sotto di un gol in sette minuti capovolge. Il risultato a Napoli basta un lampo. Mertens gol e la capolista va 1-0 a Bergamo. E poi l'eterno Quaragliarella rilancia la Sampdoria 3-1 alla Fiorentina. Gli altri risultati Verona-Crotone 0-3. Vedete forse non lo vedete bene però nel tabellino nella formazione calabrese è stato schierato Benali che ha giocato fino al 32esimo del secondo tempo e ha preso un bel 6,5 l'ex giocatore del Pescara. E poi Lazio-Chievo 5-1, Udinese-Spallo 1-1, Sassuolo-Torino 1-1, Bologna-Benevento 3-0. E stasera per la Juve c'è la trappola Genoa bianconeri condannati a vincere per tornare almeno uno dal Napoli nonostante le competenze e i carichi di lavoro da smaltire. E poi un'Abruzzese alle Olimpiadi, massaggi marsicani per gli azzurri in Corea. Di Pietro, Paolo Di Pietro dice tempo, fatica e sorriso per gli atleti paralimpici. E siamo al Pescara, Pescara gioia e tensioni, Zeman Sebastiani dopo la lite solo risultati positivi per la formazione bianca-azzurra. Dallo scontro prima del match con il Novara 10 punti in quattro partite, affoggia nuovo botta e risposta ma anche la promessa del presidente che dunque è d'accordo con il tecnico. Ridurremo la rosa a 25 giocatori. Bovo, Cocco, Stendardo, Selasi, Campagnaro, Coulibaly, Cappelluzzo, Lat Lat e Baits i possibili partenti ma non sarà facile cedere tutti questi giocatori che vediamo qui indicati e dunque ci sarà un gran lavoro da fare per i due direttori del Pescara, Pavone e Leone negli ultimi dieci giorni di mercato. A proposito di mercato, sondaggio del Delfino per il portiere Rosati si lavora per il passaggio di Zampano all'Udinese. Il Teramo in difficoltà, asta nel pallone, sono preoccupato. Queste le parole del presidente Campitelli che pungola l'allenatore, sto facendo delle valutazioni, bisogna invertire la rotta. Proseguiamo e siamo al campionato di Serie D, una giornata importante quella di ieri, contrassegnata da due derby. Il primo si è giocato al Barbati di Pescina a campo neutro dove l'Aquila ha battuto, il Nero Stellati, Pratola Peligna con il risultato di 3 a 1, un super Boldrini spegne Nero Stellati, esordio amaro per l'ex di Corcia, l'Aquila rimonta e supera i Pratolani, successo che rilancia i Rosso Blu. In chiave playoff le interviste al 91esimo, Battistini il tecnico aquilano bravi ad indirizzare la gara di Corcia, tecnico Peligno c'è da lavorare. Vediamo anche il messaggero ripartendo dal Pescara, la partenza è ok, ora continuità, ottimo Pescara quello vincente allo Zaccheria, una piazza sempre ostica per il Pescara, ricordiamo che i Biancazzurri non vincevano a Foggia dal 1958, ovvero da 60 anni. Mancuso Bomber, Pescatore affoggia il gol più bello, è andato in gol l'ex giocatore della San Benedettese che poi ha festeggiato sotto il settore dove si trovavano i 520 tifosi del Pescara. Si parla anche di volley sulla prima pagina dello sport regionale del messaggero, Sieco buon responso dalle seconde linee con la vittoria ottenuta nell'ultimo turno con la Sieco che si prepara alla seconda fase. Teramo, involuzione, ora servono rinforzi, la batosta contro il Vicenza al Bonolis ha lasciato il segno, però la società non può spendere, Carletti sfumato, adesso nel mirino c'è Camarà dell'Avellino che però non è un bomber di ruolo. E poi un richiamo di Serie D perché sabato, come detto, si era giocato in anticipo il derby tra San Nicolò e Francavilla, 1-1 il finale, Montani, il tecnico della formazione Teramana, elogia la squadra. E poi in basso ciclismo, Cuneco, una tappa in una classica per la Nippo Fantini che però non parteciperà al Giro d'Italia. E poi la palla a nuoto, donne, 9-9 spettacolo per il Pescara, le donne invece battute a Roma. L'Atletica, Mantenuto e Sabatini, le superstar abruzzesi. E siamo alla pagina che riguarda la Serie D. In alto però si parla di rugby, l'Aquila buona alla prima, Benevento sommerso 52-0, 8 mete realizzate da Via Cava, esordio ok, Gran Sasso, K.O. a Perugia. E vediamo anche la pagina che riguarda la Serie D. E come detto partiamo dall'Aquila, lo abbiamo fatto anche dal centro, con la vittoria dei Rosso-Blu a Pescina con il Nero Stellati Prato, la 3-1 il risultato finale, una vittoria importante per gli aquilani che continuano a sperare nella zona playoff. Allora noi possiamo vedere il primo servizio di oggi, proprio la vittoria dell'Aquila in casa del Nero Stellati, servizio di Andrea Costantini. Per mezz'ora Aldo Di Corcia ha cullato il sogno di un debutto coi fiocchi sulla panchina dei Nero Stellati e contro la sua l'Aquila, ma poi i limiti dei Pratolani e lo spessore tecnico superiore dei Rosso-Blu, trascinati da un Boldrini in gran spolvero, ripristinano i valori chiaramente espressi dalla classifica e l'Aquila espugna il Barbati di Pescina per 1-3. Battistini sceglie in avanti Padovani e lascia in panchina Ibe, tridente completato da De Julis e Boldrini sulla tre quarti. Di Corcia conferma il 4-3-3 classico per i Nero Stellati, ma finiscono in panchina Asurov e Bruni, cui vengono preferiti Onwaci e Cicconi. Avvio di gara rabbioso per i Nero Stellati che sorprendono l'Aquila, già al terzo si rende pericoloso Gasparotto, il cui tiro corretto da un giocatore aquilano finisce fuori di un soffio e quindi in angolo. Al quinto i Nero Stellati raccolgono subito i frutti della pressione grazie all'Euro goal di Pacella, conclusione potente e che finisce sotto la traversa con Farroni colto leggermente fuori dai pali. Il centrocampista Pratolano ci prende gusto e all'undicesimo ci riprova sempre dalla distanza, ma alla mira non è la medesima del tiro vincente di pochi minuti prima. Sopita la sfugliata iniziale dei Nero Stellati inizia a mettersi in partita l'Aquila, al diciottesimo Steri mette dentro un filtrante per Rucci, il quale centra per la corrente Padovani che da ottima posizione non inquadra la porta. Boldrini è ispirato, al ventesimo scalda il piede con una girata da fuori agevole per parente, ma è dopo la mezz'ora che la reazione aquilana prende forma. Al trentaduesimo Padovani trova una voragine sulla sinistra e mette al centro, Boldrini non arriva ma sul secondo palo, solo Soletto marra tutto il tempo di controllare e segna rapporta vuota. 46 gol presi in 19 gare prima di questo derby, una fragilità difensiva, quella dei Nero Stellati che la dice lunga e che nella circostanza si esprime con una squadra slegata e colta di rimessa quando è in vantaggio. Quando poi tra gli avversari c'è uno del talento di Michele Boldrini, tutto si complica e tutto viene più semplice per l'Aquila che al trentanuesimo ribalte del risultato, Boldrini inizia l'azione e la finalizza sotto il settore ospiti, l'esto Boldrini a raccogliere una respinta della difesa sul tentativo di De Iulis. I Nero Stellati spariscono, l'Aquila padrona del campo, dopo l'intervallo De Iulis conclude in maniera pericolosa dal limite e spaventa Parente. Al quinto Vitone tocca per Del Gizzi la cui punizione non impensierisce Farroni. Chi da calcio piazzato è esiziale invece è Michele Boldrini, esecuzione magistrale nel numero 10 Aquilano, barriera scavalcata e palla nel 7. Nulla da fare per Parente e gara definitivamente conclusa. Da questo momento l'Aquila in tranquillo controllo delle operazioni, solita sequenza interminabile di cambi fino al triplice fischio di Cattaneo di Civitavecchia. L'Aquila resta a tre punti dalla zona playoff, mentre per i Nero Stellati la missione salvezza in queste condizioni è pressoché impossibile. Questo è il servizio sulla vittoria dell'Aquila a Pescina. Vediamo anche come si commenta a Francavilla il pareggio di Giulianova con il San Nicolò. Francavilla che questa volta vede però il bicchiere mezzo vuoto ci si attendeva di più dai giallorossi. E siamo all'altra pagina che riguarda la Serie D. Vastese non perdona con Fiore e Stivaletta. I biancorossi calano il tris 3-1. Il finale tornano a vincere nel derby contro il Pineto. Consolidato il terzo posto in chiave playoff di Di Rocco. Il gol della bandiera per la formazione pinetese. Vediamo anche sul centro come si commenta la sfida di ieri pomeriggio all'Aragona. Fiore rilancia la Vastese. Steso il Pineto. Il capitano guida la riscossa dopo il WKO. Anche due pali ed un rigore sbagliato nel conto di una gara. Assenso unico nel 91esimo. Vi avevamo proposto ieri sera nel corso dell'Abruzzo del pallone anche le interviste con i due allenatori. Amaolo sconfitta che ci può stare dopo quattro mesi. Pineto che era reduce, lo ricordiamo, da 15 risultati utili consecutivi. Colavitto, tecnico degli Aragonesi, giocato con intensità e grande lucidità. Possiamo allora andare a vedere il secondo servizio relativo proprio al derby dell'Aragona tra Vastese e Pineto. Torna a brillare in campionato la Vastese che, trascinata da un Nicola Fiore in giornata di grazia, si aggiudica con pieno merito per 3-1 il derby con il Pineto, fortificando la terza piazza, ma portandosi a meno quattro dalla piazza d'onore grazie al K.O. interno della Vis Pesaro. Le due sconfitte con San Marino e Vezzano sono ormai in archivio, con all'orizzonte la gara di domenica prossima in casa della capolista Matelica. Colavitto conferma Maronilli in difesa, ma in attacco schiera tedesco per Bittaie. Nel Pineto, mister Amaolo manda in campo la miglior formazione con Pezzotti, Cercelluti e Tomassini in avanti. All'Aragona freddo e cielo nuvoloso con un migliaio di tifosi sugli spalti, dirige Tesi di Lucca. Inizio di partita un po' contratto, dei padroni di casa chiamati a riscattare i due K.O. consecutivi. Al settimo la prima emozione di Marca Locale con un tiro insidioso di Stivaletta che impegna Giacchetta in una difficile respinta. Al quattordicesimo Tomassini è lanciato sul filo del fuorigioco, si presenta tutto solo davanti a Camerlengo, ma sbaglia incredibilmente il gol del vantaggio. Gli ospiti si fanno preferire almeno inizialmente sul piano del gioco e della manovra corale con Pezzotti pericoloso al sedicesimo con un tiro a fil di palo. Le emozioni si susseguono visto che un minuto dopo Fiore in area pinetese alza sopra la traversa. Al diciottesimo per la vastese sembra fatta, ma Tedesco in area va a colpire il palo pieno della porta ospite con Giacchetta battuto. La gara dell'Aragona è piacevole con le due squadre che si affrontano viso aperto e con la formazione bianco-rossa che trova il vantaggio con un aerogol di Fiore che al ventitresimo mette la palla all'incrocio dei 25 metri facendo esplodere la gioia dei supporters di casa. La squadra di Colavitto controlla le sfuriate del Pineto e al trentanovesimo arriva così ad un passo dal raddoppio con Tedesco che va a colpire questa volta la traversa della porta di Giacchetta dopo il palo del diciottesimo minuto. Ma quella di oggi è la giornata di Nicola Fiore che al quarantatresimo colpisce questa volta sul punizione disegnando un'altra parabola deliziosa per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo e la ripresa si apre al secondo con il 3-0 per la formazione del presidente Bolami grazie ad una rete griffata da Stivaletta che dopo un'azione prepotente entra in area e con un tiro angolato supera il portiere del Pineto per la terza volta. Gara che termina con largo anticipo visto che poi al sesto e Lonetti chiama ancora Giacchetta al miracolo prima del poker sfiorato in scivolata sotto rete da Tedesco. Il Pineto quasi scompare dal campo e così al decimo arriva un rigore per la formazione di casa per un tocco in area pinetese di Veroni con la mano. Tesi indica il dischetto dagli 11 metri. Lonetti calcia però debolmente fra le braccia di Giacchetta che para. Amaolo effetta tre cambi in un sol colpo mandando in campo Zane, Orlando e Gragnoli per Marianeschi, Pepe e Cercelluti ma in campo domina la squadra di Colavitto che al diciannovesimo con Tedesco arriva ad un passo dal 4-0. Il Pineto si vede finalmente al ventesimo con una conclusione violenta di Pezzotti che trova la pronta risposta di Camerlengo. Ancora va stese al venticinquesimo con Giacchetta che dice no a Leonetti. Poi i minuti finali di gara con un gol divorato da Tomassini al ventisettesimo a conferma della giornata negativa dei Biancazzurri che trovano il gol della bandiera al quarantaseiesimo grazie a Di Rocco. Finisce così dopo sei minuti di recupero con il tripudio della Vastese che tocca quota 40 in classifica e fa festa con i suoi tifosi mentre per il Pineto arriva una sconfitta che allontana di nuovo la zona playoff. Grazie. ma senza segnare. Vediamo anche il centro come commenta questa gara. Bunker Monticelli e Lavezzano raccoglie solo un pari. Vedete in alto gara con due spulsi in pieno recupero un difensore di casa salva sulla linea. Giampaolo su questo campo non è facile fare punti. e poi invece si parla del Francavilla in questo caso. Iervese furioso abbiamo buttato una vittoria tecnico giallorosso arrabbiato dopo il pareggio con il San Nicolò. Il bomber del San Nicolò Moretti per il San Nicolò dice salvezza da conquistare ma noi torniamo a parlare dell'Avezzano. Lo facciamo vedendo il servizio della gara giocata ieri a Castel di Lama. Il servizio curato da Roberta Di Sante. Non riesce ad andare oltre lo 0-0 Lavezzano sul neutro di Castel di Lama contro un buon Monticelli che a dispetto della posizione di classifica imbriglia le fonti di gioco marsicane con un folto centrocampo e impedisce agli esterni bianco-verdi di far male. Nel 3-5-2 Stallone recupera Pierantozzi in difesa e Margarita in avanti e con Aloisi febbricitante sposta Fazzini sulla destra per inserire cocchiere a centrocampo. Giampaolo risponde con un 4-4-2 che conferma per 10-11 la formazione vittoriosa contro la Bastese con la sola eccezione di Scutti per lo squalificato d'Eramo che si aggiunge a Pollino mentre Persia parte dalla panchina. In avvio Lavezzano prova ad imporre il proprio gioco. Al terzo riesce il triangolo Cerone-Dossantos ma il centravanti defilato viene chiuso al momento del tiro. Stesso risultato al tredicesimo per Scutti che non riesce a trovare la deviazione vincente sull'intuizione di Pellecchia. I marsicani cercano di far girare la sfera ma faticano a trovare spazi. Risultato uno sterile possesso palla che però non produce occasioni pericolose. Anzi è il Monticelli a sfiorare il vantaggio in un paio di occasioni con Margarita che al ventiquattresimo ci prova dalla distanza e alla mezz'ora impegna in diagonale Lombardo per poi servire a Galli. La palla che l'attaccante stoppa con un gran gesto tecnico ma non riesce a calciare con la forza necessaria. Neppure le condizioni del terreno di gioco facilitano le giocate di una squadra tecnica come quella di Giampaolo che però sale nei minuti finali e al quarantunesimo va vicina al vantaggio con il diagonale a botta sicura di Pellecchia. Primavera occasione di un primo tempo tutt'altro che esaltante che si chiude con la conclusione di Cerone neutralizzata da Camarani. In avvio di riprese i marsicani si fanno vedere con un paio di conclusioni dalla distanza ma prima Dos Santos poi Bisegna non riescono ad essere incisivi. Non è il miglior Avezzano che al quattordicesimo rischia grosso su Margarita involato a rete ma menna prima e Lombardi poi ci mettono una pezza. E ancora il capitano Biancoverde è provvidenziale in anticipo sul cross di Gesuè prima di proporsi anche in avanti provando in spaccata sul secondo palo. La gara non si sblocca e ad entrambe le squadre manca il guizzo vincente per portare a casa il risultato. Nel finale la gara già spezzettata e confusa si innervosisce ulteriormente. L'arbitro Angiolari sanziona con il rosso diretto il fallo da tergo di Ciabuschi entrato in precedenza a rilevare Galli su Persia. Ora l'Avezzano prova a sfruttare la superiorità numerica per gli ultimi minuti e al quarantacinquesimo di Curzio di testa costringe Castellana al salvataggio sulla linea. In pieno recupero però si ristabilisce la parità numerica in un finale da dimenticare con Pellecchia che si fa espellere per un colpo ai danni di Gesuè e salterà la vispesaro domenica prossima. Il triplice fischio arriva provvidenziale dopo sette minuti di recupero a sancire uno zero a zero tutto sommato giusto per un Avezzano che può e deve fare di più se vuole rimanere agganciato al treno delle battistrada. Nervosismo l'avete visto nelle immagini nel finale di gara soprattutto in casa biancoverde. Chiudiamo la pagina relativa alla Serie D, apriamo quella del campionato regionale di eccellenza che si riapre per quanto riguarda la vetta della classifica perché il Giulianova costretto al pari a Città Sant'Angelo dall'Angolana vede più vicine le inseguitrici. Vedete il titolo principale che riguarda proprio il pareggio dei giallorossi in casa della formazione Nerazzurra. 1-1 il risultato finale. Farindolini alla mezz'ora del secondo tempo per il momentaneo vantaggio dell'Angolana. Il pareggio di Fuschi per il Giulianova. Quattro minuti dopo al novantunesimo Piccioni, il tecnico del Giulianova. Avrei preferito vincere queste le sue parole. Vediamo anche le altre gare. Quaterna dello Spoltore sulla ruota dell'Acqua e Sapone. Spoltore che vince per 4-1. Torna al successo la squadra di Ronci. Vittoria di misura del Paterno. Qui basta di Fabio per stendere la Torrese. Il gol dopo appena 90 secondi di gara. 1-1 tra i riverchieti e Montori 88. Un pareggio che serve però a poco. Vediamo l'altra pagina. Chieti conquista Penne. Ora la vetta è solo a tre punti. I teatini passano per 2-1 sul campo dei Vestini. Festa grande tra i giocatori del Chieti. Vedete nelle immagini dopo la vittoria ottenuta Penne. Doppietta di Lalli per quanto riguarda la formazione. Nero Verde. Martinsicuro Corsaro a Miternina nei guai. La squadra di Fabio passa per 1-0 in casa della formazione Aquilana. Vediamo anche nella parte bassa della pagina gli altri risultati delle altre gare della giornata di eccellenza. Alba Adriatica Cupello 2-1. Tre punti importanti per la formazione Albense. Vince con lo stesso punteggio in trasferta il capistrello a Miglianico. Vittoria ancora più rotonda sempre in trasferta del San Buceto sul campo del San Salvo. Andiamo a vedere invece ora i risultati del campionato regionale di promozione. Siamo sempre ovviamente al calcio. Partiamo dal girone A. Virtus Teramo Pontevomano 4-0. La Virtus ferma la capolista e riapre i giochi. Dunque giornata quella di ieri per le capoliste dei vari tornei abruzzesi non proprio positiva. E poi Alba Montaurei Colonia 0-2. San Gregorio Morrodoro 2-1. Celano Marsica Nuova Santegidiese 0-1. Santomero Palmenze Pucetta 2-0. Notaresco Mutignano 0-5. Luco Fontanelle 1-0. Rosetana Tossicia Tossicia 0-0. Mosciano Piano della Lente 3-0. Vediamo il girone B. Val di Sangro il Delfino Pescara 0-1. Ortona Batte Bucchianico 2-0. Casalbordino Castiglione Valfino 2-0. Fater Fossa Cessia 1-1. Villa 2015 Palombaro 1-0. Real Treciminiere Passo Cordone 1-2. Sul Mona Piazzano di Atessa 1-1. Casolana Sportland Celano 0-1. Virtus Pratola Raiano 2-1. Vediamo anche le varie classifiche per quanto riguarda l'eccellenza e i due gironi di promozione almeno per le prime e le ultime posizioni. In eccellenza come detto si riapre il campionato. In vetta Giulianova 47. Chieti 44. Martinsicuro 42. Paterno 40. In coda San Salvo 11. Miglianico 15. River Chieti 16. Amiternina in Montorio 19. Promozione girone A. Anche qui si riapre la lotta al vertice. Ponte Romano 47. Luco De Marsi 45. Virtus Teramo 44. In coda Notaresco e Tossicia 13. Alba Montaurei 17. Mutignano e Santomero 21. Promozione girone B. C'è il sorpasso in vetta. Ora primo posto c'è il Delfino Pescara con 45 punti. Ortona 44. Val di Sangro 42. In coda Palombaro ultimo con 10 punti. Staccato poi Raiano 22. Sportland Celano. Passo Cordone 23. Virtus Pratola 24. Chiudiamo definitivamente la pagina che riguarda il calcio. Siamo al volley. Volley di Serie A2. Sieco impavida aspetta l'Aversa il 4 febbraio. Vedete il titolo. Riparte la seconda fase. Torna in campo l'opposto Banks. Lanci. Inizia per noi un nuovo torneo. Dunque si ripartirà domenica 4 febbraio con Ortona Aversa. Il ritorno il 4 marzo in terra campana. in Serie B1. Altino campione d'inverno ma per la Coral Max. Niente Final Four di Coppa Italia per un peggior quosiente set. E siamo al rugby. L'Aquila travolgente e viacava da spettacolo 52 a 0 con il Benevento nella fase promozione di Serie A. Ottimo esordio dell'argentino contro i Campani. Rotiglio grande talento. Crescerà a Troiani. Dice avanti così. Domenica gara a Piacenza. E per il Gran Sasso sconfitta invece a Perugia. 26 a 20. Il direttore generale Anibaldi dice i giovani sono la nostra nota positiva. Un richiamo di ciclismo che riguarda la Nippo Fantini. Parla il patron Valentino Sciotti dopo il no al Giro d'Italia. Non c'è spazio, dice, per certi valori. Dunque grande delusione in casa della formazione abruzzese per l'esclusione dal Giro d'Italia. Siamo al basket. Roseto, il ciclo salvezza parte male per i biancazzurri che sono stati battuti in casa al Palamaggetti per 91 ad 85 da Montegranaro. Roseto che resta ultimo in classifica con quattro punti. Poi c'è Bergamo che di punti ne ha sei. E Orzinuovi che invece ha vinto ieri con Ravenna. Si è portata ad otto punti e dunque ci sarà ancora da soffrire e da lottare per il Roseto basket di Paolo Antonio. Troppe errori nella difesa. L'allenatore è rammaricato per la battuta d'arresto. La squadra ci crede. Ora sotto con l'Orzinuovi. Proprio questa partita importantissima perché l'Orzinuovi è terz'ultimo. Roseto ultimo. Questo è il match che si giocherà il 28 di gennaio. Vedete nella foto anche il neopresidente del Roseto basket, Antonio Norante. Ieri in tribuna. E il basket di serie B con l'Amatori che si aggiudica nettamente in trasferta. il derby con Ortona per 84 a 60. Vince anche il Teramo che batte di misura 79 a 77. Senigallia e poi Bisceglie che invece sconfigge nettamente Giulianova per 90 a 66. Campli sfiora il colpaccio ma in casa della capolista Sansevero c'è il disco rosso con i padroni di casa che si aggiudicano la gara per 82 a 79. E poi la danza sportiva. L'Abruzzo balla sul podio con Nicolás e Maria Baffoni. Medaglia di bronzo per la coppia di casa nella giornata dedicata ai balli caraibici. Quarto posto per Mucilli Sprecacenere e nell'hip hop per Ferrari Galasso. Danza sportiva, campionati assoluti italiani che si sono disputati a Pescara. E poi per quanto riguarda invece il basket di serie D e promozione per Chieti e Azzurra non ci sono ostacoli. Cepagatti batte Roseto. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi, primo della settimana con Mattino 6. Io ringrazio Silvia Gentile in regia, ringrazio voi per averci seguito. Mattino 6 tornerà domani alle 8. Il prossimo appuntamento informativo della giornata è come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.